Allora ciao a tutti ragazzi 25 ottobre ma ha detto che ha buttato quanti quintali oggi non lo so ha buttato quintali ci sono voglio farvi un video con la mangiata in diretta non so se si è vista ha mangiato più pesci che acqua tre ore e sedici euro ecco se è la macchina vabbè perchè si è raffamato più pesci che acqua eh perchè si è raffamato